Qual è il messaggio più profondo che la FAO vuole condividere con l'Esposizione Universale? Io credo che il messaggio più profondo è che è possibile radicare l'anno e che abbiamo tutte le condizioni per farlo alla brevidà di una vita. Credo che è molto importante che questo messaggio non sia solo dirigito al pubblico europeo. È come un'esposizione universale, sia un messaggio che possa essere entenduto in tutti i paesi del mondo. Il programma FAMEZERO può essere trasposto anche in Europa dove ci sono sacche di povertà crescenti? Lo che funziona nel programma FAMEZERO è che sta basato nell'esperienza ben succeduta del proprio paese. per costruire l'Ambreservo, io percorrì con il presidente Lula durante più di 10 mesi in tutte le regioni del Brasile. Abbiamo anche basato in molte esperienze internazionali, ben succedendo come negli Stati Uniti e anche qui in Italia. Quindi la mia recomendazione è che bisogna essere inspirarsi nei paesi che hanno posto in marcha i plani ben succedenti. Però ogni paese deve trovare il suo proprio cammino, ogni paese deve avere il suo proprio menu di opzioni per combattere l'Ambra. Grazie. Grazie. Grazie.